mutatevi allora abbiamo abbiamo così appunto oggi diceva mia moglie guarda non ho idea di su cosa studiare e lei mi ha detto ma tutte le tutte le mattine vai a studiare le sere vai a studiare parla di quello che hai studiato c'ha ragione allora volevo volevo una minima fare un giro veloce perché questa come si dice è così c'è un po di ragazzi l'hanno chiesto questa settimana abbiamo iniziato un po a studiarlo e c'è questo libro che noi io noi ridiamo perché l'abbiamo ne abbiamo stampati una marea ed è un fumetto abbiamo detto che rabbina ha raccontato 13 storie fantastiche ognuna delle storie che sono sono state raccontate ogni parola è senza fine di segreti adesso noi ridiamo di questo libro perché chi chi ce l'ha non so se ci ha fatto caso ci abbiamo messo una marea a fare la copertina e tutto si chiama abbiamo sbagliato il titolo c'è scritto non si vede bene qua c'è scritto la scomprasa invece che la scomparsa in pratica questo libro qua rappresenta la prima delle storie di rabbinachman ha scritto 13 storie certe le ha finite certe non le ha finite certe sono più chiare certe meno chiare in pratica rabbinachman ha raccontato 13 storie fantastiche perché perché aveva detto guarda io ho provato con tutto me stesso a tirarvi giù le torot vuol dire torà abbiamo detto torà viene dalla parola ora insegnamento che non me ne voglia appunto aldo che ha studiato che lui si sentisce un rim su youtube però abbiamo studiato questo l'inizio della storia insieme al collel e la facciamo anche per gli altri cerchiamo di aggiungere qualche cosa in più però abbiamo detto che tutto il 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 le storie ogni piccolo ogni parola ogni cosa che c'è scritto nelle storie rappresenta una marea di segreti in particolare abbiamo detto che rabbinachman ha detto guarda non ho più non riesco più a tirare la torà la torà abbiamo detto che torà in ebraico viene dalla parola ora ora vuol dire luce giusto insegnamento però cosa vuol dire per l'insegnamento il loro lavoro cos'è quello di illuminare con le nyan della torà la torà qual è l'insegnamento lo scopo della torà l'abbiamo detto imparati tro lo scopo della torà è di illuminare e dov'è che deve illuminare nel posto che è buio se il posto è già illuminato non c'è scopo che porti lì un farro giusto e per quello che ha creato il mondo che si chiama olam dalla parola nelam che dio è nascosto e lavoro della torà è proprio illuminare nei posti più bui e abbiamo detto che apposta per questo la torà è stata data i dieci comandamenti sono stati dati nella parasha che si chiama itro itro chi era non era a caso una persona che si è convertita quindi uno dice ah non era nella comunità ebraica e si è avvicinato alla torà no non solo si è convertito che è una delle cose che abbiamo studiato diverse volte una delle cose più sacre che può fare una persona perché in pratica viene da lontano e si avvicina ma in più cosa ha fatto c'è scritto che itro aveva fatto tutti i tipi di idolatria che esistevano al mondo e lui cosa ha fatto ha fatto tutti i tipi di idolatria alla fine ha visto che la torà è la verità abbiamo studiato perché per come però la torà è stata data i dieci comandamenti in una parasha che si chiama itro proprio per insegnarci che lo scopo della torà è venire a illuminare in tutti quei posti nei posti più lontani ok azar shabra abbin ha detto guarda io adesso non riesco più a illuminare in quei posti con delle torò vuol dire con degli insegnamenti adesso per tirarvi fuori dei concetti così elevati devo rivestire i concetti in storie ok allora perché perché ci tengo a iniziare almeno una minima la prima storia perché molte persone magari l'hanno ricevuto appunto come fumetto l'hanno letto hanno letto una volta soltanto la storia e non riescono a capire di cosa parla non hanno idea neanche di cosa parla allora noi lo leggiamo un po in italiano e iniziamo un po a commentarlo ok poi se Dio vuole che Dio ci aiuta andiamo avanti lo lo tengo qua anche in ebraico almeno lo abbiamo da un'altra parte ovviamente come ogni storia vediamo che anche nella torà la torà incomincia i primi libri incominciano con le storie tutto il lavoro come si dice delle storie ci devono avvicinare a carushboku ci devono insegnare come avvicinarci a Dio ok allora incomincia così rabbina ha detto che era 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 bruciato non abbiamo detto però aveva bruciato Breslev Breslev la città da dove viveva rabbina ha con rabbinata con rabbinata non viveva lì all'inizio però conviveva con i suoi chassidim in Rabenu aveva preso fuoco la città e ai tempi le case in particolare in ucraina erano tutte fatte di legno e quando bruciava una casa poteva prendere fuoco quella dopo e così era successo in una parte enorme della città di Breslev allora cosa è successo c'è scritto che rabbinata ha preso la sua roba e andato verso Uman e questo è stato il viaggio che ha fatto e durante il viaggio ha iniziato a raccontare delle storie così dice rabbinata e appunto ha detto inizio a vestirvi gli insegnamenti in storie e la prima storia inizia così dice iniziò così il suo racconto durante il cammino narrai un raccolto un racconto dice rabbinachman che accese in chiunque lo sentisse una scintilla di desiderio di far ritorno a dio soltanto sentir questa storia ti può far venire la voglia di tornare a di tornare a dio è per quello che noi l'abbiamo stampato perché soltanto raccontare la storia può far venire la voglia alle persone di avvicinarsi a con il suo cuore allora questo è il racconto dice rabbino dice c'era una volta un re che aveva sei figli e una figlia questa figlia era molto importante per il re e il re gli era molto cara la amava moltissimo ed era solito trascorrere insieme a lei molto tempo piacevole in ebraica addirittura c'è scritto c'è un re che aveva tre però diceva che era così importante i suoi occhi e c'è scritto c'è aia come si dice la la adorava come abbiamo detto nella traduzione però c'è scritto anche amistà c'è aia ma vuol dire che proprio godeva con lei stava con lei allora in ovviamente come abbiamo detto anche altre volte tutte e si pure ma si oddi rabbinachman come tu le commenti va bene perché qualsiasi commento dai va bene ovviamente qualsiasi commento che dai che sia pertinente collegato con la torah perché rabbinachman viene a dire una storia che non è collegata con la torah ovviamente tutta la sua storia sono collegate con la torah allora qua vediamo qua i chachamim che hanno i chachamim di di brest che hanno iniziato a studiarlo i chassidim spiegano che cosa vuol dire che era c'era un re un re parla di akkadosh bohu vuol dire che è dio c'era un re che aveva sei figli e una figlia cosa sono i sei figli se i figli quindi rappresentano i giorni della settimana vuol dire la materialità vuol dire questo mondo e il sette invece cosa rappresenta l'anima l'anima che c'è in ogni cosa l'anima che c'è dentro di te in particolare l'anima che c'è il mondo che è considerato am israel vuol dire il popolo ebraico in pratica vuol dire che aveva tanti figli ma aveva una figlia che è l'anima che è shabbat che am israel che adorava più di tutti cosa vuol dire che adorava più di tutti già gli piaceva a star con loro diceva che bello star con te come ti voglio bene che godimento star con lei chissà cosa studiavano c'è scritto che le anime di am israel sono state create ancora prima della creazione del mondo il re stava così bene con loro però come abbiamo detto diverse volte che le anime del popolo ebraico che erano in un posto così elevato abbiamo detto che l'anima è il contrario del corpo il corpo rappresentata dall'ego il corpo dice io faccio vado spacco quindi rappresentano quei sei figli il corpo di continuo dice io faccio io faccio io spacco faccio ma alla fine dopo 120 anni gli fanno un buchettino di due metri per 70 centimetri e ti buttano dentro e lì finisce il corpo e l'anima invece va su e tu immagini l'anima che umiltà l'anima dicevamo questa settimana che umiltà l'anima che per 120 anni 70 anni 80 anni che una persona vive l'anima sta sta nella sua parte non dice niente il corpo dice ah io faccio così io faccio così 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 ma in realtà è l'anima che dà la vitalità e così tutto il mondo tutto il mondo vive dalla vitalità che dà kadosh borgu e c'è scritto appunto che le anime di am israel erano un livello così alto ma non si credevano importanti infatti se vedi c'è scritto che un giorno c'è scritto un giorno ebbero una discussione il re si dirò con la figlia e gli scapparono le parole che ti colga il male quella notte la fanciulla si ritirò nella sua stanza e l'indomani mattino nessuno sapeva dove fosse suo padre era molto addolorato la cercò ovunque cosa vuol dire come dicono in ebraico anche che a kadosh borgu ha discusso con quest'anima con questa figlia del re ok con la principessa ha iniziato a discutere con lei e in ebraico c'è scritto su cosa discutevano sembra una cosa che non è che non è in ebraico non voglio dire niente ha detto come si dice cosa vuol dire che in pratica il re stava mitvadea vuol dire che stava discutendo con lei per per capire qual era eseyom vuol dire che giorno era cosa vuol dire che giorno era l'anima continuava a dire sì va bene ti piace star con me mi tieni vicino a te e tutto ma io sono uguale agli altri io sono uguale agli altri giorni della settimana no 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 perché vuoi star con me più che star con gli altri era così umile l'anima così umile am israel che dice perché 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 mi vuoi così vicino non sapeva il suo potere allora cosa gli ha detto a kadosh borgu ah tu mi dici di prendere gli altri e questo è uno dei segreti e dei fondamenti che dice la risa al rabbi haim vital spiega che in pratica le anime che erano in cielo mangiavano quello che si chiama il pane della vergogna il pane della vergogna vuol dire quando sei in un posto che non ti meriti cosa vuol dire abbiamo fatto un esempio una volta che se tu prendi un povero e lo fai lo fai lo porti in casa tua e gli dai da mangiare da bere gli dai il bagno con la jacuzzi questo lo fai stare lì un mese due mesi tre mesi quattro mesi dopo cinque sei mesi non sta bene non è contento perché perché non è contento ti ho tolto dallo strada ti ho dato da mangiare ti ho dato da bere ti faccio lavare ti do i vestiti nuovi che però non l'ho guadagnato io una persona che non l'ha guadagnato si chiama che mangia il pane della vergogna così si chiama nella nella lingua della cabalà il pane della vergogna quando una persona in una posizione che non crede di meritarsi ok nel momento in cui non crede di meritarsi ti sembra che ogni secondo ti fanno un favore ed è una persona infatti c'è scritto nella gmarà abbiamo studiato nella gmarà c'è scritto che una persona che vive aspettando che l'altro gli dia da mangiare vuol dire che dipende dagli altri la sua vita non è vita ci sono diversi dettagli che dicono in che casi la vita di un uomo non è vita uno uno dei due casi o tre casi che c'è scritto è il caso in cui una persona dipende dal dal tavolo di un di un altro cosa vuol dire dal tavolo di un altro vuol dire se questo ti dai soldi vivi e mangi bene se no non hai da mangiare e questa è una delle cose che si chiama appunto il pane della vergogna noi non vogliamo avere quello c'è scritto che le nostre anime erano così vicine a kadosh borgu che hanno iniziato a discutere con lui marcia ma va bene shabbat è santo però anche 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 il martedì se ti fermi fai chidush bebi del vino fai delle cose del genere e fai canti le canzoni e tutto anche quel giorno lo puoi rendere sacro anche gli angeli possono essere allo stesso livello nostro perché ti piace stare così tanto con noi studiare così tanto con noi ci sono gli angeli che sono ancora più elevati possono essere più elevati di noi ma 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 perché proprio con noi allora quando quando a kadosh borgu sente una cosa del genere perché kadosh borgu adora l'umiltà adora l'umiltà però anche nell'umiltà dice ok c'è un limite però a tutto va bene ti ho fatto umile sei vicino a me capisco che dice ah non me lo merito di star così vicino a val c'è un limite non mi dire che anche gli altri sono meglio di te e sai allora cosa ti dico allora che il male ti prenda adesso noi crediamo che il male ti prenda sia una maledizione che a kadosh borgu ha detto alle anime per dire il male ti prenda no a kadosh borgu non ha dato assolutamente nessuna maledizione al contrario cosa ha detto sai cosa vai nel male tu adesso dici ah non mi merito di stare a sta posizione vai nel male adesso ti faccio vedere che anche nel male non mi molli anche quando sei nel male ah vuoi vuoi tornare da me adesso vedrai come ti comporti nel male da come ti comporti nel male ti faccio vedere che il posto dove sei è tuo a pennello a pennello infatti come diciamo nel tutto il lavoro con anima viene giù in questo mondo e poi c'è scritto con israeli e shlem helek l'olam abba vuol dire che tutto israel ha il posto già nell'olam abba c'è già un posto allora se c'ho già il posto perché devo venire qua guadagnarmi il posto e tutto sì la differenza qual è da prima e dopo che quando tornerai al tuo di posto avrai una consapevolezza diversa qual è la consapevolezza che questo posto qui è proprio il mio posto questo è il mio posto non avrò più non potrò più dire ah perché a kadosh borgu gli piace star con me perché mi tiene vicino a lui no questo è il mio di posto questo è il posto dove ero prima e dio mi ha mandato giù per capire che questo è il mio posto mamash non fa niente al caso a kadosh borgu allora quando gli ha detto che il male ti prenda e per vedere cos'è il male noi ogni volta diciamo a tel aviv ci sono ragazzi che vengono a studiare o alla mattina facciamo filà cantando e ballando tutte le mattine chi vuol venire alle 8 e 10 credo sì ben io da 155 facciamo la preghiera cantando con i tamburi eccetera eccetera a valenza e a tel aviv puoi andare a fare mille casini mille feste mille pub discoteche eccetera invece tu cosa fai viene a studiare toratela vivo o a roma o a milano adesso potevi stare a casa non abbiamo idea di cosa vuol dire stare a casa una persona che sta a casa da sola il rab da noi dice che stare a casa da solo è come è come è come essere chiuso in una stanza con con una donna che è una cosa che non si deve fare quindi cosa vuol dire come è come i chud come si dice come se una persona è chiuso una persona che è solo in casa e c'è il cellulare in mano può 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 cadere in tutti i peccati del mondo allora allora invece invece di cadere nei peccati una persona dice no vado a sentire una shiur di torah si mette youtube oppure si va ma è un miracolo una persona che fa una cosa del genere mamma e fa vedere a cadere guarda io sono qua mi è messo in un mondo pieno di tentazioni pieni di casini potevo adesso accendermi netflix o andare su facebook e star 15 ore su instagram avevo deciso di venire a sentire le tue parole parole di rabbin ahma le parole della torah una persona del genere mamma in 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 come si dice pian piano si rende conto che 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 si avvicina anche nel buio che questo mondo abbiamo detto che rappresentato dal buio cose che molti degli angeli che sono in cielo non riescono a farlo quindi tutto il lavoro qua ci insegnerà bene che il lavoro che dobbiamo fare è il scendere nel buio e mamma fa parte delle 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 come si dice del lavoro mamma di come innalzarci tutto il lavoro è scendere appunto nel buio mi ricordo che rav diceva di tanti anni fa uno dei chassidini diceva che behemet la vita di ogni persona è amara dalla mattina alla sera hai la vita piena piena di amarezze tutto il fatto che ogni tanto ci dà qualcosa di buono è soltanto per tenerci in vita ma in realtà il lavoro che devi fare è proprio passare tutti sti momenti bui dalla ma tutto il tempo e questo non va bene quello non sta bene quello senza fine senza fine ci sono dei virus che vengono fuori nuovi ogni di continuo che rimani scioccato ogni volta e poi il bambino non muove la gamba quello invece muove il piede quello non sta bene di là e senti cose dalla mattina alla sera azzarotto ogni tanto a Kadosh Borku ci dà qualcosa di buono per darci un po' la spinta a fare il lavoro che dobbiamo fare in questo mondo appunto nel buio in quello che ci sembra non buono trovare a Kadosh Borku di continuo trovare a Kadosh Borku allora vediamo che è arrivato e ha avuto una discussione ha detto che ti prenda il non bene il non bene ti prenda allora il giorno dopo il re è andato a cercare la figlia del re nelle stanze non l'ha più vista non l'ha vista e c'è scritto che il re era molto addolorato dice suo padre molto addolorato la cercò ovunque vuol dire che la cercò ovunque veramente ti ha preso il male il vice re in ebraico il vice re si dice vuol dire il secondo è il vice re leggiamo dalla storia dice il vice re vedendo il re talmente dispiaciuto chiede che gli affidassero un servo un cavallo del denaro per le spese si ricò alla sua ricerca la cercò a lungo allora prima di tutto chi è il vice re abbiamo detto che il vice re rappresenta lo tzaddik vuol dire il giusto sia lo tzaddik in generale vuol dire lo tzaddik che c'è in ogni generazione che lo tzaddik che è dentro di te cosa vuol dire? l'atto di tzaddik o di tzaddikah che c'è in ognuno di noi il giusto che è dentro di noi che è praticamente il giusto che è dentro di noi in pratica è come se ha una voce che quando vede che il re sta cercando l'anima a Kadosh Vohu non vede l'ora che la tua anima torna a lui la principessa torna a casa ma mash allora cosa fa? lo tzaddik è dentro ognuno di noi cosa fa? inizia a dire yala o vedo che il re è così dispiaciuto sai cosa? dammi quello che serve un cavallo, un servo poi vedremo più avanti magari cosa vuol dire dice yale andiamo vado io a cercarla lo tzaddik dice guarda fammi scendere giù vado io a cercare la figlia del re vado io lo tzaddik il vice re e così dice l'anaree lui non ha peccato dicendo ah ma non mi merito di star qua o cose del genere lui dice Dio gli ha detto stai qua lui sta qua per tornare a quello che aveva detto prima allora abbiamo detto che il vice re in ebraico si chiama shenila malhut shenil shenil come si dice è l'acronimo delle parole shenil shin rappresenta shoresh è la lettera iniziale della parola shoresh che vuol dire radice nun rappresenta la lettera rappresenta la parola nishmot ve yud israel cosa vuol dire che in pratica la parola shenil è l'acronimo delle parole delle tre parole shoresh nishmot israel cosa vuol dire la radice delle anime di israel la radice delle anime di israel è il vice re quindi lo tzaddik e in più giusto per dare un bacio non è a caso che lo dice rabbino rabbinachman è gematra 360 che è bidiuk il valore numerico della parola shenil quindi ancora di più abbiamo un bacio che lo tzaddik ha lo stesso rabbinachman ha lo stesso valore di shoresh nishmot israel la radice delle anime ebraiche per quello che molti vanno da rabbinachman per pregare ai zivugim ai zivugim per avere una coppia per trovare moglie o trovare marito perché c'è scritto che lo tzaddik è la radice è attaccato alle radici di am israel quindi cosa vuol dire che ognuna delle nostre anime la tua anima con quella di tua moglie o con quella di tuo marito veramente in questo mondo sono diverse sono due pezzi di carne le metti in cielo sono attaccate quindi quando vai dallo tzaddik in pratica lui arrivi là e gli dice oh fammi avere l'altro pezzo della mia anima lui essendo la radice ti tira giù ti aiuta a tirare l'accoppiamento una parentesi in più allora vediamo che in pratica il vice re ha visto che a Kadosh Mourou che Dio il re era così addirato dispiaciuto e chiede appunto abbia detto che un servo un cavallo del denaro per le spese e si ricò la ricerca cosa vuol dire lo tzaddik viene in questo mondo ma mash per far cosa trovare l'anima trovarla e portarla su il lavoro di ognuno di noi questa storia qua è per ognuno di noi cosa vuol dire che in pratica dobbiamo iniziare a cercare la figlia del re che è dentro di noi dobbiamo cercare la nostra anima puoi girare qua in questo mondo un anno due anni cento anni dieci reincarnazioni e non trovi la tua anima adesso vedremo la storia e c'è scritto guarda guarda come si dice la cercò molto a lungo quindi qua ti dice non credere che adesso ah bella lì sono arrivato a una lezione trovo subito la mia anima e divento subito Rabbi Shimon Bar Yochai no qua ti dice già la cercò molto a lungo per molto tempo e andava al casene l'ebraismo non c'è una roba piglia una pastiglietta diventi lo tzaddik non c'è niente tutto tutto la keter vuol dire la corona che è la sfira più elevata delle dieci sfira rappresenta vuol dire l'attesa tutto il lavoro se vedi dell'ebraismo da quando è stato creato cosa facciamo aspettiamo il messia cosa vuol dire aspettare aver pazienza il lavoro è per aver pazienza aspettiamo ogni anno stessa festa ogni anno ogni giorno le preghiere andiamo avanti grazie a Dio una volta va così una volta va così però il nostro lavoro è sempre ad aspettare allora qua cosa gli dice no va piano c'è scritto l'ha cercato molto a lungo per molto tempo finché non la trovò anche qua Rabbeno ci insegna che alla fine se cerchi 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 ti sembra che non arrivi da nessuna parte ma alla fine la trovi e qua dice ora una parentesi quadrata che ha detto Rabbi Natan ha detto ora narra di come la cercò finché non la trovò così ha detto l'ha cercato fin quando non l'ha trovata mamma vagò a lungo per deserti campi e foreste e a lungo la cercò chi vuol vedere cos'è la differenza tra deserto campo foreste non a caso Rabbeno lo dice c'è una Torah nella Torah numero Yud ogni ogni cosa rappresenta una cosa un campo diverso non voglio fermarmi su queste cose però mamma c'è pieno di motivi perché ha detto questo non ha detto quello una volta mentre camminava nel deserto trovò un sentiero recondito e disse fra sé a sé già che sto vagando da così tanto tempo nel deserto senza trovarla mi incamminerò per questo sentiero forse raggiungerò un posto abitato e continuò a camminare a lungo qua cosa ci insegna Rabbeno che in pratica una persona che sta cercando la sua anima abbiamo detto che cammina a lungo a lungo a lungo per una marea di tempo e dice che una volta mentre camminava nel deserto ha trovato un sentiero cosa vuol dire che in pratica il lavoro che devi fare tu in questo mondo devi continuare a cercare dire devo trovare voglio trovare la mia anima voglio trovare la figlia del re voglio trovare come collegarmi con te questo è il lavoro il lavoro che ognuno di noi deve fare di cercare la propria anima però cosa ti dico che una persona deve volerla cercare perché è la prima condizione la prima condizione abbiamo detto che vuole che hai bisogno per trovare l'anima la prima condizione deve essere voler trovarla non puoi venire qua sono persone che mi dicono sì ma sai non mi va bene il lavoro cose come se tutto il lavoro il lavoro che sei venuto a fare in questo mondo è fatturare tanto fare un bel po' di soldi ma lo faccio per i bambini ma questo è il bene dei bambini il bene del bambino è se ti vedono che non litighi con tua moglie o con tuo marito il bene dei bambini è se gli insegni Torah quello è il bene dei bambini non che gli dai una casa due case tre case quelli che pigliano tre quattro case i bambini diventano sempre quelli più rimbambiti li bruciano tutti non vanno neanche a lavorare taglia subito non è quella la roba dagli quello che gli puoi dare ovviamente non è che adesso gli devi mollare in povertà il lavoro è dargli emunà quello è il regalo più grande come fai a dargli emunà devi mettergliela dentro pian piano ogni volta parlare succede questo va bene non ti preoccupare tuo figlio litiga con un amico gli dici no guarda che anche quello succede per il bene non esiste cancellare siamo religiosi chi segue la Torah tutto il lavoro della Torah non far mai male a nessuno questo è il lavoro che devi fare questo è quello che devi insegnare ai bambini la Torah è quello la Torah è così non so i peccati tra te e Dio i peccati tra te e Dio li cancella tutti li può cancellare in un secondo i peccati tra te e un'altra persona quello è un problema tutta la Torah ci insegna come comportarti con un'altra persona come fare la vita comunitaria presti soldi a una persona mani a sé è il top della rachamim vuol dire la bontà più grande che esiste e quindi tu devi cercare di arrivare allo stesso livello di bontà di come ti comporti con gli altri a Dio con chi è non è parlare un altro giorno ma devi aiutare gli altri mi hai detto che qua abbiamo visto nella storia che il male ti prenda perché il male ti prenda adesso ti faccio vedere che anche lì mi cerchi tutto il lavoro è cercare Dio nei posti dove ti sembra che c'è il male cosa vuol dire aiutare quelli più lontani il lavoro che devi fare dalla mattina alla sera è aiutare quelli più lontani non quelli che tutto gli va bene sai ci sono quelli che fanno da mangiare a casa dico eh faccio da mangiare a questo questo è uno tzaddik porto no vai a prendere i poveri vai a prendere chi non ha da mangiare vai a prendere quello che puzza dagli vestiti e gli viene a lavarti a casa mia è tutto bello porti a rava tzaddik ah il rava è venuto a mangiare a casa mia bellissimo bellissimo c'è scritto che una casa è buona che abbia che calpestino in casa i talmideha che vengano a casa gli dai da bere da mangiare bellissimo bravissimo vai a prendere quelli che non ha da mangiare prendi qualcuno in famiglia tua ma sai dove andare quello che ti è più difficile vuoi soltanto prendere le cose che vanno bene Dio sta lì Dio sta dove sono i malati quelli che gli va tutto bene non hanno bisogno più di tanto chi sta male Dio è con loro ho un tuo amico divorzia vai a fianco a lui aiutalo senza entrare nei dettagli non è un problema cioè non è tuo non devi giudicare nessuno vai a aiutare di continuo il lavoro che devi fare devi sempre cercare come posso aiutare l'altro come posso fare senza fare dolore all'altro una persona ti dice il tuo vicino di casa in particolare non tra ebrei ogni essere vivente la Torah ti dice vedi 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 l'asino del tuo nemico che è caduto dal peso cosa ti dice vai tiralo su tira su l'asino l'asino c'è scritto come si dice che che non devi mettere la 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 museruola la mucca mentre mentre lavora perché perché può soffrire vede il mangiare e dice ma non ne mangio della mucca la Torah ne frega della mucca della mucca che non soffra che mentre 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 sta arando la la terra o sta facendo un altro lavoro non sono specializzato dei lavori mentre sta lavorando non gli mettere la museruola perché perché può mangiare addirittura c'è anche che non credo gli om che spiega questo dice c'è scritto di non mettere un un animale un il mucca la mucca a lavorare con l'asino perché perché l'asino vede la mucca che 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 rumina dal momento che la vede che rumina dice ah questa qui ha da mangiare mentre io non ho da mangiare lei mangia io non mangio vedi che tratta meglio me di meglio lei di me la Zarchab soltanto per questo pensiero che è una balla è una di maillon come si dice una bolla non è un non è la verità è un'immaginazione dell'asino anche dell'immaginazione dell'asino Dio ti dice stai attento stai attento oi va a voi se fai del male a qualcuno leggevo l'altro giorno una storia è famosa molti la sapranno però è buono ripeterla una volta la Rizal è arrivato la Rizal più grande cabalista che c'era negli anni 1500 è arrivato a casa di una famiglia e lei gli ha detto non ho bambini non so da dieci anni gli ha detto non mi ricordo quanti erano un botto di anni questa coppia gli ha detto a Rav gli hanno fatto da mangiare e si è seduto con loro gli ha detto a Rav gli ha detto dimmi che brachà vuoi in verrechotà ti faccio una brachà e il padrone di casa gli ha detto a Rav io e mia moglie proviamo a avere figli da dieci anni non abbiamo figli dieci anni non abbiamo figli la Rizal gli ha detto tua moglie ha come si dice c'è una panchina lei ha messo una panchina dove le galline vanno a bere e ogni volta le galline devono saltare questa panchina per andare a bere dall'altra parte gli ha detto Rav cosa c'entra la panchina le galline cosa c'entrano con mia moglie avere i figli gli ha detto le galline ogni giorno quando vogliono andare a bere devono saltare fanno una fatica così grande quelle che non riescono non lo fanno e tutto il giorno come si dice maledicono tua moglie dalla mattina alla sera le galline ragazzi stiamo parlando dei pulcini le galline quello che è maledicono tua moglie lei non può avere figli gli ha detto sposta la panchina vedrai che avrà un figlio al volo e così è stato una storia della risa non te la racconto io così ha tolto le galline Marsha vuoi essere un ebreo che crede in Dio bisogna avere Rahamim vuol dire pietà di ogni essere vivente ogni essere vivente immagini di un'altra persona un'altra persona tutte le mazzate dicono dicono così Rahamim dicono che tutte le mazzate che una persona prende tutte le mazzate che prendiamo dalla mattina alla sera è solamente perché non ci comportiamo bene con gli altri è solo per quello solo per quello uno più da una e ok adesso hai ragione hai preso uno la macchina gli hai preso dei soldi ok ti va tutto bene li rispendi in un altro modo da un'altra parte li ritiri fuori ogni volta che fai del male a qualcuno ti ritorna e ma la so non puoi uscire da qua senza che ti ritorna ogni cosa conviene conviene cercare di stare qua il Gaon Mi Vilna dice che il lavoro in questo mondo è cercare di stare qua a 70-80 anni senza far del male a nessuno questo è il lavoro che dobbiamo fare e non c'entra niente che se hai dato tzedakah hai aiutato 14 yeshivot 500 avrichim mangiano grazie a te se poi ti comporti da cane col tuo vicino di casa ti comporti da cane con tua moglie ma cosa hai fatto con la cavoda hai dato tzedakah arriverai in cielo ti insegneranno quello che hanno studiato tutti questi talmidini quello che ti comporti con gli altri dovrai pagare dovrai pagare nessuno esce da qua tutto il lavoro della Torah è insegnarti come comportarti con gli altri lo vuoi fare bella lì non lo vuoi fare addirittura c'è una storia delle non mi ricordo chi è che mi fa resce forse anche lì questo qua nei tempi della Gmara cosa faceva in pratica faceva i pozzi i pozzi di acqua per tutti quelli che arrivavano al Betta Migdash durante le feste non avevano da bere non avevano quelli i cosi d'acqua allora cosa faceva faceva i pozzi che si riempivano d'acqua per la strada in modo che la gente che passava aveva da bere tutta la sua vita questo si è occupato di questo la Gmara racconta che suo figlio un giorno stava girando in un campo è caduto è morto annegato il figlio è morto annegato mi chiedono ma proprio uno che si è occupato di dare da bere tutto il tempo dava da bere si occupava di far resse di fare del bene agli altri dandogli da bere suo figlio apposta è morto annegato ok sai perché così spiega credo che non mi viene ma sai qual è la differenza che lui lui quando 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 faceva i pozzi non pensava a quelli che camminavano di là lui faceva il pozzo bella lì che si riempia d'acqua che la gente venga e beve ma non ha pensato al dolore di una mamma col passeggino Arcello passa col passeggino eh deve cambiare strada salire sul marciapiede eh parcheggi in doppia fila parcheggi sul marciapiede una donna col passeggino non riesce a passare Arcello ma pensi che vada via così pensi che non dovrai pagare sta roba qua qua abbiamo qua uno in zona da noi che ha il figlio che è sulla sedia a rotelle di quelle sedia a rotelle pesanti quelle tutte grosse non puoi ogni salita e discesa sul marciapiede è un lavoro ma tu metti la macchina che non lo puoi far uscire di casa ma pensi che è tutto a posto no bella lì scusa finita no no ognuno paga fai del dolore all'altro devi pagare così e la cosa non cancella i peccati uno con l'altro allora il lavoro che devi fare mamma ogni volta cercare di di tirare giù il meno possibile hai offeso un tuo amico vai scusa mi arti ti voglio bene guardo ho sbagliato ma eh cercare di arrivare su di aver fatto il meno male a nessuno ogni volta diciamo prima a Elul marciava il mese di Adar e corrisponde a Elul perché ogni sei mesi il mese di Adar corrisponde a Elul il mese che si chiede scusa cosa fa a chi chiedi scusa chiedi scusa anche ai tuoi figli chiedi scusa a tua moglie scusa che non tratta come si deve scusa che invece di essere stato un buon esempio sono stato un cattivo esempio mamma chiedere scusa subito chiedere scusa vedere l'altro vediamo che 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 abbiamo visto che il Mila Markullo Tzaddik è dentro di noi quando cercava la verità cercava la l'anima tutto in un tratto ha trovato un come si dice una via vuol dire che non c'entra come si dice non c'entra dove hai cercato come hai fatto ci sono persone che possono tornare a diventare Tzaddikim Gmurim a Milano Tzaddikim Gmurim a Roma non importa dove sei non importa mamma l'importante è quello che vuoi ribonosce Olam io voglio te voglio stare vicino a te ovviamente aiuta di più se sei tornato da persone che parlano noi preghiamo vai al tempio preghi cantando con i tamburi robe del genere fai tutta la tfilà ballando finita la tfilà studierà bene ma è ovvio che se stai in un ambiente del genere ti aiuta non vuol dire che solo lì puoi avvicinarti a Gadush Baruch sono cose che ti aiutano ci sono altre persone invece che sono nel deserto e si avvicinano infatti cosa dice guarda il dettaglio che dice era bene non a caso dice una volta mentre camminava nel deserto deserto in ebraico è la parola bamidbar bamidbar ha le stesse lettere della parola bemedaber bemedaber cosa vuol dire quando parla cosa vuol dire parlava con a Gadush Baruch ribonosce Olam aiutami a trovare l'anima io sono venuto in questo mondo non mi far tornare ancora di nuovo un'altra volta un'altra volta un'altra volta io voglio star con te io mamash voglio star vicino a te voglio avvicinarmi a te lo diciamo tutti i giorni nella preghiera diciamo non ci far non ci far lavorare a vuoto vogliamo venire in questo mondo non vogliamo tornare di nuovo vogliamo venire in questo mondo e finire quello che dobbiamo fare non ci far lavorare a vuoto facci andare nella nella cosa giusta allora dice tutto il motivo perché c'è scritto che l'ha visto quando era nel Midbar Midbar vuol dire che quando era nel stava parlando con a Gadushu era nei Diburim parlando con lui ha trovato un sentiero e ha detto tra sé e sé già che sto vagando da così tanto tempo nel deserto senza trovarla mi incamminerò per questo sentiero e forse raggiungerò un posto abitato cosa vuol dire ci sono persone che hanno 50 70 80 90 anni e dicono guarda le ho provate tutte e chissà anche quante generazioni quante volte sono tornate in rincarnazione le ho provate di tutti i colori diciamo va bene adesso c'è sto qua un po' fuori che mi dice che il rabbinach mi può fare il ticuni proviamo anche quello le ho provate tutte e così dice ho provate tutte io ne ho sto sentiero qua sto qui mi dice che il rabbinach mi può proviamo anche questo ma caramba le ho fatte tutte vado di là forse non lo sapeva quindi ti fa vedere che anche quando una persona trova una strada non lo sai se è quella giusta la tua intenzione qual è avvicinarti a lui la tua intenzione avvicinarti a lui a Gadushu ti fa vedere una strada vai in quella strada se è finito qua se ti dice ah va bene proviamo va bene vediamo vediamo se veramente questo è lo zadì che mi può far trovare la figlia del re se è questo benvenga se non è questo andiamo avanti a cercare avanti a continuo cercare cosa ti dice proviamo ho provato tutto magari questa è la strada che mi porta a un centro abitato cos'è il centro abitato centro abitato è un posto dove c'è daat daat cosa vuol dire consapevolezza conoscenza di Akadushu come sappiamo c'è scritto nella Choddi Shabbat c'è scritto che quando uno non sa cos'è Shabbat vuol dire che rispetti il primo giorno fino a quando arriva in un centro abitato perché il centro abitato è un posto che è considerato dove c'è daat c'è consapevolezza e c'è scritto che comunque anche quando ho trovato questo sentiero cosa c'è scritto e continuò a camminare a lungo cosa vuol dire ah bella lì sei arrivato sulla strada bella lì ho visto ah era bene guarda lo Zaddi guarda che che di Vrei Torà ci dice era bene che robe ci dice in italiano mai abbiamo sentito delle parole del genere una bomba atomica di di fede ma con la rabbina ci dice delle cose del genere bella lì proviamo sta strada le ho provate tutte proviamo questa strada vediamo come va qualcosa ti dice subito dopo e continuò a camminare a lungo non sei arrivato da nessuna parte appena ti avvicini a rabbino capisci che hai tanta strada da fare guarda come sono gli zaniki oggi mi ricordavo Roberto c'è scritto nella sagenza di rabbina che rabbina quando era piccolo addirittura così si voleva staccare dal corpo che lavorava a non grattarsi aveva il prurito e ha preso su di sé di non grattarsi prendi conto di chi stiamo parlando si sta staccando già in vita si era staccato dal corpo mamma gli ha detto che è stata una delle cose più difficili ancora più di eliminare il piacere di correre dietro alle cose sessuali quella è una cavolata è una cavolata chi ha una minima di cervello dice rabbina e in un attimo si allontana da ste robe un pezzo di carne la gente tutto il mondo corre dietro una roba che è una cavolata è uno facile così dice rabbino perché era super umile c'è una Torah che si chiama 130 chi la vuole vedere 130 mamma che parla dell'umiltà che è collegato a quello poi magari lo vediamo sapere dopo un certo tempo ha visto una fortezza ha visto una fortezza cerchiata da numerose legioni essendo una bella costruzione molto ben protetta da soldati schierati temeva che i soldati non lo facessero entrare sembra una cosa un palazzo bello bello che ora dici qua qua mai potrò entrare e disse fra sé a sé prova ad entrare vediamo lasciò il cavallo e si incamminò verso la fortezza fu lasciato entrare non fu ostacolato affatto infatti noi diciamo sempre quando le cose ti vanno difficile vuol dire che sei nella strada giusta perché lo ezzerati spinge quando va tutto bene lo ezzerati dice vai vai ah vuoi quello vuoi andare con ah tua moglie non c'è vuoi andare con un altro vuoi rubare non c'è problema ti do qua la prova guarda quello lì ha lasciato il portafoglio la prendilo così di continuo lo ezzerati fa entrare non c'è problema vuoi entrare qui vogliamo che ti senti a casa e dice andò distanza in stanza senza essere disturbato anche qui ci sono torotti intere che parlano di cosa distanza in stanza dite finché è giunto a un palazzo dove scorse il re con la corona in capo chi ha visto il re lo ezzerara ha visto il male quel male che ha detto che il male ti prega abbiamo detto all'inizio della storia dice circondato da soldati e menestrelli cosa vuol dire soldati che ti fa vedere che lui è forte lo ezzerara è forte è pieno di soldati e menestrelli che sono quelli che cantano ti fa la felicità d'accordo e tutto lo ezzerara ti dice che è forte d'accordo ti continua a far credere che lui è fortissimo e poi invece i menestrelli invece ti dicono che è mega divertente stare con lui vai 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 stare nelle vicinanze di questo re ti senti sia sicuro che ti senti mamash che ti stai godendo la vita abbiamo detto che questa immaginazione che ognuno di noi ha c'è scritto i nostri saggi dicono che in pratica quando arriveremo in cielo ci saranno gli tzadikim che piangeranno e i malvagi piangeranno dicono i malvagi piangeranno perché vedranno che il loro istinto al male era così piccolo come un pelo vuol dire che bastava un attimo e lo superavano mentre gli tzadikim piangono poi dicono ma mi vuoi dire che io un mostro del genere ho superato non ci credo è troppo grande piangeranno dallo shock che dicono ma una roba del genere ho battuto io io posso battere una roba del genere torniamo al rasha il rasha il cattivo cosa dice il palazzo è enorme pieno di soldati lo yetzirah è mega forte in realtà non è forte la persona che si avvicina a Karushuokost dici solo tu tu sei più forte di ogni cosa se credi in Dio devi sapere che lui è più forte di ogni cosa e il tuo lavoro è soltanto combattere con questa cosa non è vincere non so se abbiamo detto l'altra settimana ho sentito una roba così bella che valeva la pena venire in questo mondo per sentire una roba che Dio non sta con i vincenti cosa vuol dire non sta sta con tutti Dio sta con quelli che perdono perché c'è scritto nell'agmara che Dio era così felice quando i Chachamim hanno discusso una halakha esceza una regola esceza una batkol quando c'era la storia di Rabbi Eliezer ha escezato una voce che ha detto che la regola l'halakha era come Rabbi Eliezer ha escezato una batkol e i Chachamim cosa hanno detto la Torah non è qua la Torah è qua in questo mondo scegliamo noi come la regola non tu dal cielo che tiri con una voce così hanno detto ha fatto una regola che le halakhot vengono decretate in questo mondo hanno detto si puoi dire che pensi che è come lui però in questo mondo noi decretiamo le regole tu ce l'hai insegnato adesso non puoi andare contro un tuo insegnamento a Kadosh Baruch c'è scritto che era così felice ha detto mi hanno battuto i miei figli mi hanno battuto Dio era contento di aver perso Dio è contento di aver perso noi invece il contrario dobbiamo sempre vincere se non vinci mi arrabbio il rabbinacola dice che la midat nitzachon vuol dire una persona che sempre vuol vincere non è una roba buona perché e lo dico a me anche perché io ero così da quando ero piccolo non è una cosa buona e questo devi insegnare ai bambini hai vinto hai fatto non è una roba buona perché perché una persona che vuole vincere a tutti i costi più ha la voglia di vincere più può essere uno che bara uno che non fa le cose come si deve ti porta a quello perché farle arrivare lì no no quando uno perde quando uno perde rimane con lui eh nitzchoni balai nitzchoni questo valeva la pena venire in sto mondo per sentire sta cosa qua mamash vediamo che quando è entrato dentro ha provato a entrare in tutte le stanze è entrato l'hanno fatto entrare è andato da una stanza senza essere disturbato fin quando abbiamo detto abbiamo detto che ha visto questo re e dice qua nella storia che tutto era molto bello e gradevole e né il re né alcun altro lo interrogarono nessuno gli ha chiesto niente lo jetzarara finché vai distanza in stanza finché non vedono che gli vai contro lo jetzarara ti fa fare quello che vuoi nel momento in cui inizi a dire basta dai non voglio più rubare basta non voglio più rubare ti corre dietro infatti c'è scritto che gli egiziani dopo che sono usciti gli ebrei dall'Egitto che gli egiziani rappresentano l'uscita dal male l'uscita degli ebrei dall'Egitto c'è scritto che l'Egitto poi sono usciti e hanno detto no vuoi che li lasciamo andare vado li ricorro fino al mare li ha ricorsi non li ha mica mollati una persona per dieci anni vent'anni fa 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 non rispetta shabbat sta per fare un esempio non rispetta shabbat vent'anni pitom dice guarda da sto shabbat inizia a seguire tutto ti succederà per non far quel shabbat tutto tutto perché ve lo inizierà ti rincorre non ti lascia andare dici ma non ho rispettato cinquecento shabbat adesso mi vuoi dire proprio questo no anche questo non lo rispetto così uguale una persona dice ah ho rubato fino a ieri quando decide di smettere di rubare dice va bene dai adesso non rubo più arriva arrivano tutti i motivi per rubare gli arrivano mille robe deve pagare questo il bambino ti arriveranno tutte le prove perché non ti fa andare dici oh ah vale sei stato da me per vent'anni trent'anni quarant'anni adesso dove vuoi andare hai mangiato che bello c'era da mangiare da bere un posto bello ehi sei stato qua quarant'anni dove vuoi andare adesso mi hai dato vitalità fino ad oggi dove vuoi andare dove vuoi andare ma adesso vuoi fare shmirata e naim vuoi curare gli occhi non vuoi vedere robe non buone ma c'è te le tira fuori sotto casa tu prova adesso dici da oggi io voglio fare shmirata e naim vedrai che oggi esci di casa esci di casa ti vedi la roba è così perché perché è una regola è un format l'Egitto è corso dietro a misraele è arrivato fin quando non è negato gli correva dietro asotto da var qua entri dentro nessuno ti interroga finché sei da loro a colbe seda asomer dice vedendo che erano molti cibi e prelibatezze azadì che dentro di te ha visto che è tutto bello tutto lucica si fermò a mangiare è rimasto lì a mangiare e si è nascosto in un angolo per per vedere cosa sarebbe successo vide che il re quindi anche qua Zennikram ha mangiato qualcosa ha assaggiato i tamim di questo mondo lo tzaddik però si è messo di lato non è che ha mangiato è entrato già bainianim che doveva essere il re della festa n'acol è stato di lato vedi l'umiltà dello tzaddik omer che è dentro di noi abbia detto e vide che il re ordinava di condurre la regina ok fu condotta con gran gioia e fermendo fermento e conducendo la i menestrelli cantavano e suonavano festosamente lama chi lo Yetzirah tutto gli puoi dare gli puoi dare i milioni le seve aval neshamash gli eudì per lui è la regina tutta la sua vitalità viene dalla tua anima quando acchiappa a te non ti molla più perché tutta la sua vitalità ti fa subito regina subito dice no no è il top infatti ci sono i nostri fratellastri che cosa fanno investono una marea di soldi per come si chiama per rendere cattolici o protestanti gli ebrei in Israele ma ma parlavamo con uno che era scatto nel come si dice da loro poi è tornato che qua investono una marea di soldi cioè tu vai in una chiesa qua ci sono queste chiese degli avventisti non so si chiamano no non gli avventisti dei sono sono un io non lo so però dei cattolici che in pratica cosa fanno tu vai da loro e ti pagano l'affitto ti fanno di tutto basta che vai alle loro lezioni e quindi a Scemi Azor investono una marea una marea di soldi in questa cosa qua perché? perché non investono a prendere un'altra persona in Nicaragua investiteli evangelisti forse sì forse evangelisti o questi gruppi qua ma 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 perché devi venire a investire qua ci sono così tanti posti nel mondo dove ci sono molte più persone perché devi investire così tante forze in Israele cosa hai da fare in Israele cosa hai da fare dagli ebrei perché proprio gli ebrei vuoi convertire fanno le pubblicità su YouTube in ebraico in ebraico fanno le pubblicità ritagliano dalle lezioni dei rabbini ritagliano i rabbini che hanno detto una frase dicono per esempio io adesso ti dico ah un uomo deve uscire e vedere un'altra donna che non sia sua moglie deve vederla come una mucca stanno per dire cosa fanno tagliano questa parte qua dicono che un uomo deve vedere una donna come una mucca la tagliano mettono il collage di tutti i rabbini che parlano delle donne come se le donne sono delle mucche così fanno allora dicono guarda com'è l'ebraismo come non rispetta la donna ci sono persone che non sanno cosa dice l'ebraismo e vanno a sentire queste robe qui dicono ah vedi ha ragione ha ragione ma ma così fanno perché investire così tanto sai quanto costano tutte queste cose qua perché perché questa è la regina ecco la indiana il male vuole ma ma l'anima è udia gli interessa l'anima ebraica non gli interessa l'anima di uno in india perché non investi andare si mettono uno in nuova guinea perché non metti la un 5 centri gli stessi soldi metti nella metà la perché non li metti qua perché vogliono che se se lo jezerà prende la tua di anima prende la vitalità tutto il regno dà la vitalità alla tua anima e questo quando una persona torna a becciuva può distruggere un palazzo intero uno stato intero ma ma tutto questo se una persona torna a becciuva perché praticamente cosa vuol dire che quando tu torni a becciuva torni a dio cosa hai fatto hai preso l'anima dal male e l'hai riportata al re l'hai tolta dal mare il male non ha più vitalità perché vedi che quando l'ha tirata fuori dice come si dice l'ha tirata fuori c'è scritto che hanno fatto una gran gioia hanno fatto una gran festa i menestrali cantavano e suonavano festosamente perché perché lei è la radice di tutta la loro vitalità il male è considerato la clipà la clipà è la buccia e la tua anima è il frutto dal momento in cui togli il frutto dalla buccia la buccia cade non esiste non ha ragione non esiste più non ha più forza la sua mère le portarono un trono e la misero a sedere al canto al re era lei dice qua era lei era la figlia del re nell'inizio della storia vedendola al vicere la riconobbe cosa vuol dire che a volte ti ritrovi così immerso nel male arrivi ai livelli più elevati del mare nella stanza del re del male arrivi nella stanza del re del mare del male e cosa succede pitom vedi lei vedi l'anima pitom ci sono persone che tornano che si ritrovano non so all'Hollywood a Milano iniziano a vedere si sentono proprio c'è Dio nel mondo ci sono persone che si trovano non so non conosco i posti di Roma o di Veneto dove sei sei nel top del male nell'estremità del male e pitom inizia a sentire la tua anima cosa ti succede lì pitom inizia a riconoscerla lì dentro eh non riesci io udì la cerca la parte dello tzaddiche dentro di te in ricerca di continuo in ricerca magari una ricerca silenziosa come ha detto qua cosa ha detto si è messo da parte a volte lo tzaddiche dentro di te dice ok aspettiamo eh non è ancora il momento aspettiamo stiamo qua però alla fine quando vedi vede una festa la festa che stai facendo lo vedi che in realtà la tua anima non è contenta lei si è seduta all'inferma così in silenzio il re è tutto samea è tutto felice cosa vuol dire a volte sei in situazione che il tuo corpo è tutto pieno di felicità ma in realtà la tua anima sta urlando dentro di te perché la stai portando a fare delle robe che non vuole neanche assaggiarle non vuole neanche avere lo sporco di queste robe infatti c'è scritto che l'anima molla la persona gli entra un'anima diversa ma come può essere così come ti dice Rabenu arrivi nel posto e l'anima l'anima Pitomi inizia nel posto più del male a fianco al re del male troverà lei Marshaf senti qua cosa gli dice lui dice guardandosi intorno la regina scorse una persona sdraiata in un angolo e lo riconove cosa vuol dire che l'anima mentre in tutti questi casini di continuo guarda in giro chi mi può tirare fuori da qua ok adesso sono all'olivo questo qui mi dà i free drink quello mi mette a sedere lì questa donna qua mi salta addosso quell'altro lì mi ha dato le droghe ti guarda in giro chi mi tira fuori da qua ma è un saddico qua dentro infatti ci sono una marea di questi breslevi che qua in Israele vanno nei locali gli mettono mettono la musica trans di Rabinach ma intanto loro danno un botto di librettini adesso cosa succede che ci sono persone che conoscono un ragazzo che è un sofferto scrive i libri di Torait è tornato questo qua com'è che è tornato era in discoteca sono arrivati questi qua gli ha detto è arrivato a casa alle 4 del mattino ha messo il libro a fianco al comodino ce l'aveva in tasca il giorno dopo si sveglia no prima di andare a dormire ha iniziato erano le 2 di notte 3-4 di notte non lo so ha iniziato a leggere il libro le storie ha iniziato a leggere le storie e da lì ha detto è bellissima ho paura cosa vuol dire ha iniziato a leggere un commento oggi scrivi tefilina tutto questo da un libro che gli ha dato ma caralo cosa gli è successo l'anima stava guardando dov'è dov'è chi c'è il tuo lavoro come abbiamo detto prima vedi una persona che è nel buio che è nei casini il tuo lavoro tiralo fuori da lì chi fa una cosa del genere chi aiuta quelli lontano chi aiuta una persona che è lontana da Kadosh Boku a avvicinarsi a lui e non avrà mai problemi di figli a Kadosh Boku ti aiuta sempre sempre ti aiuta ti occupi dei suoi bambini ma non c'è niente di più grande che aiutare i bambini di Kadosh Boku chi ai bambini lo sa hai un bambino che vicino abita vicino a casa tua un bambino che è scomparso non ti parla più da vent'anni cosa fai se una persona adesso dà un passaggio a tuo figlio che abita dietro casa dici grazie mille grazie me l'hai portato a casa ha valuto che ti porta a casa dopo vent'anni tuo figlio dopo vent'anni tuo figlio te lo porta di nuovo parlando dire oh Yaba sono qui il papà quanto è contento mi hai portato a casa il mio figlio così così esattamente così a Kadosh Boku al lavoro noi prendiamo sempre sì ma questo qui è andato ci sono quelli che dicono no questo è andato questo ormai c'è una vita ha fatto così fino alla fine fino all'ultimo giorno non hai idea di cosa vuol dire se si mette l'ultimo giorno dice portami te filì una persona sul letto di morte dice portami te filì non hai idea di cosa sta facendo vuol dire che tutta la sua vita si è reso conto che tutta la sua vita la verità è la persona che va via così vuol dire andare via nel lavoro che dobbiamo sempre far ci va perché non sai se Dio ti darà il tempo ci sono persone che c'è scritto che una persona non dica ah continua a pecare poi un giorno farà ci va perché è possibile che Dio non ti dà la possibilità di far ci va c'è una persona che stava con una donna che non era della nostra parrocchia come si dice farò ci va e poi mi sposo ma alla fine è rimasta incinta lo scrivi tu che fai ci va pensi che la ci va lo decidi tu quando ti fa comodo decidi tu devi cercarlo cercarlo a lungo a lungo di continuo come si dice che guarda la risposta che dà la fila del re fantastico ma Umair gli ha detto che lei l'ha trovato lo toccò e gli domandò mi riconosci l'anima dice allo tzaddik hai capito che è quello che stavi cercando me mi riconosci Bichlal è passato così tanto tempo ma magari come si dice lo tzaddik viene giù in questo mondo si dimentica Bichlal e cosa sta cercando non lo riconosci più cosa sta cercando si stavo cercando sai ci sono quelli che dicono si non lo so io cerco qualcosa cerco la verità non lo sa neanche lui più cosa sta cercando cerco delle risposte cerco la verità non lo so e l'anima cosa fa gli busta e dice eh ti ricordi di me e cosa gli ha detto lo tzaddik dopo che l'ha vista fa sì che ti riconosco tu sei la figlia del re che si è smarrita sei tu sei la figlia del re per te sono venuto qua d'accordo e cosa cosa gli dice gli ha chiesto come sei arrivata fino a qui com'è che sei arrivata tu sei la figlia del re sei all'Hollywood alle 4 del mattina tutta fatta di coca cosa ci fai qua dentro dici cosa fai tu sei la figlia del re stai a fianco al re del male come sei finita qua dentro guarda la risposta che gli dà questo dobbiamo ricordarcelo e dirlo a lui ma come sei arrivato fino a qui e lei disse mio padre il re si fece sfuggire delle cattive parole questo è il male che mi augurò tutto il male dove sei finito chi ti ha mandato mi ah perché hai fatto sti peccati perché hai vissuto come un maiale chi è chiamato io io volevo stare lì ma carai è Dio che mi ha detto è il re che ha detto che il male gli sono sfuggito da lui delle parole è lui che mi ha mandato qui se Gesù è un rafforzamento enorme tutti i peccati che sei caduto chi ti ha mandato è il re ti ha mandato ma lui ha fatto qualcosa hai fatto qualcosa non ho fatto niente cosa gli ha detto la figlia del re fa io ho fatto io è lui che ha detto che il male ti prende il male mi ha preso allora ha iniziato a bere gli sciottini a fumare un po' una sigaretta qua poi ho messo la cannetta ho fatto un po' due righettine via l'eroina sono una fattona drogata via ho tutto iniziato sono io è lui che ha detto che il male ti prende io io sarà per me stavo da un'altra parte quindi questo è quello che dice l'anima e questo è il male che mi ha augurato sono finite questi posti qua e il vice re le raccontò che suo padre era molto dispiaciuto hai ragione hai ragione lui ha detto che il male ti prende però sappi che è molto dispiaciuto dispiaciuto vuol dire che il caddo si è scritto nella gemara tre volte durante il giorno ma se che il brachot c'è scritto vuol dire vuol dire per i miei figli che per colpa dei loro peccati ho eliminato il betta migdash che avalbenishchai spiega sull'agmara dice che non vuol dire hoi per i loro peccati avalben il mio peccato perché ho peccato io questo è quello che dice a Kadosh Vokhu tutti i giorni piange tre volte di notte urla mamma c'è scritto shakko mo'arie vuol dire che ruggisce come un leone così è scritto nell'agmara il Talmud Kadosh Vokhu piange per sta cosa qua allora gli dice guarda che lo tzaddik gli dice guarda che Kadosh Vokhu è mega dispiaciuto gli manchi un botto vuole che torni vicino a lui eh adesso dal male vuole che torni a lui a Kadosh Vokhu ogni seconda devi sapere che non vede l'ora che torni vicino a lui ognuno di noi nel dettaglio Dio non vede l'ora che torni a lui non vede l'ora che ti fermi e dici papà ti voglio bene riprendimi dammi un abbraccio questo è quello che vuole ma vuoi aspettare altri vent'anni sai quelli che dicono ah sto cercando mio padre eh lo cerchi uno due tre giorni quattro giorni ah l'ho trovato eh ma non lo vedo da vent'anni prendi il volo adesso no guarda devo sistemare delle cose tra quindici anni lo faccio di nuovo altri quindici anni e poi lo vado a beccare ma ah voglio stare con te da subito da subito non voglio aspettare un secondo voglio stare con te ma ma a suo merlo dice guarda che Kadosh Vokhu ti sta aspettando da anni da anni ti cerca e quindi le domandò gli ha chiesto ok adesso sei qua nel male c'è questo re qua dice come posso portarti via da qui lo saddiki in pratica chiede all'anima come faccio a tirarti fuori da sti casini e lei gli disse non è possibile condurmi via a meno che tu non scelga un posto e vi rimanga un anno intero che tutto l'anno tu aneli di portarmi via oggi abbiamo studiato tutto l'anno devi tirare su rezzonot rezzonot cosa vuol dire volontà sei arrivato hai trovato l'anima adesso per un anno gli dice tutto l'anno devi dire a Shem ti prego ti prego fammi salvare l'anima fammi avvicinare all'anima fai che l'anima comandi su di me non il corpo fai che io non corra dietro alla voglia di mangiare le torte alla panna ma voglio correre dietro a te assumerlo un anno devi devi annelare qua dice in italiano l'ha tradotto in italiano anelare vuol dire proprio l'allot rezzonot vuol dire avere delle volontà dice che in ogni momento libero tu anelimi di farmi uscire vuoi veramente trovare l'anima ogni momento libero direi bonoshe olamio voglio collegarmi con te oggi mio figlio mi ha detto papà mi insegni un'altra parola che adesso c'aveva il loop lui ogni tanto si impara delle parole le dice al loop allora ogni cosa mi diceva oggi eni e ushba olam abba altitia esh vuol dire non ti arrendere non ti arrendere papà non esiste l'arresa nel mondo che è una roba che dice rabbinachma c'ha otto anni e mezzo gli ho detto oggi non trovo le chiavi di casa gli ho detto ma non trovo le chiavi e lui continuava papà non ti arrendere vedrai che le troverai oh gli ho detto mollami fa no non ti arrendere non esiste l'arresa nel mondo gli ho detto mollami un pugno non esiste l'arresa alla fine le ho trovate c'aveva ragione non dovevo non dovevo arrendermi le ho trovate erano sul tavolo come si dice il punto ogni volta dobbiamo avere un loop nella testa cosa vuol dire vogliamo avvicinarci a te voglio star con te allora mi ha chiesto papà mi insegni un'altra cosa allora c'è una Torah di rabbinachman che dice che di continuo devi ricordarti che c'è il mondo a venire una persona che si ricorda che c'è il mondo a venire che esiste un mondo dopo questo mondo è molto più facile che non cade nei peccati infatti si dice olam abba vuol dire il mondo il mondo a venire oppure si dice almadeate vuol dire in aramaico vuol dire il mondo a venire ok allora di continuo noi abbiamo provato una volta anni fa due o tre anni fa non mi ricordo quando con mia moglie ogni volta ogni cosa ci svegliamo la mattina almadeate almadeate olam abba olam abba perché vuol dire che ogni azione che fai ti ricordi che c'è il mondo a venire ogni volta quindi cosa vuol dire che in pratica uno viene ti taglia la strada dici ah guai c'è il mondo a venire non se ne ho tagliato la strada inutile che adesso gli urlo qualcosa perché finirò a dare un giudizio nel mondo a venire così in ogni cosa una persona gli hai prestato dei soldi e questo non te li ha ridati me li ridai tu molte persone dicono ah non presti soldi e robe del genere ma quello me li ridà non me li ridai prima dicevamo la Rachmanut guarda nella Torah se tu presti soldi a una persona non puoi neanche telefonargli per chiedere oh ce li hai i soldi ah ma eh non devi mai farglielo neanche notare magari questa persona non li ha da ridarti matase matase ma lo devi umiliare ogni volta che lo vedi dove c'è scritta una roba del genere eh una persona presta i soldi deve sapere la emunà cosa vuol dire aver fede che se io presto i soldi a una persona io li presto perché me l'ha insegnato Dio Dio ha detto che dobbiamo prestarci i soldi senza interessi ok quindi se io ti presto mille euro diecimila euro quello che ti presto devo vivere con emunà sapere con fede che se me li dai sei tu se non me li dai non è facile oggi parlavo con mia moglie di un prestito particolare mi hanno chiesto una masce difficile difficile dobbiamo sapere una masce una mancanza mia di emunà grande dobbiamo sapere che se Akadoshu ti vuol togliere centomila euro ti toglie centomila euro se te li vuol mettere te li mette se tu hai prestato dei soldi a una persona e questa persona non riesce a darteli non stare ogni volta a dire ce li hai ce li hai ce li hai e Akadoshu ti ha detto di prestarli se questo non te li ridà te li ridà lui e andava a casa mica te li lascia tu hai fatto una mitzvah te li ridà lui bisogna sapere ma ma c'è ogni volta non prendersela con l'altro una persona che sa che ogni cosa o l'ama c'è il mondo a venire allora non se la prende di niente allora qua ti dice che ogni momento libero devi anellare di farmi tornare di farmi uscire da qua se tu lo desideri fortemente gli dice e attendi impazientemente di farmi uscire e digiuni cosa vuol dire che veramente hai voglia di tirarmi fuori da qua e digiuni digiunare cosa vuol dire staccarsi da questo mondo vuol dire staccarsi dai piaceri di questo mondo e dice all'ultimo giorno dell'anno digiuni e non dormi affatto per l'intera giornata addirittura all'ultimo giorno non devi mangiare per niente e per tutto il giorno non devi dormire in pratica durante l'anno ogni tanto devi digiunare il digiunare come sappiamo che ogni volta che facciamo i digiuni che io ho un kippur o qualsiasi digiuno noi cosa stiamo facendo ci stacchiamo dalla materialità allora dice vuoi tirarmi fuori dal male inizia a staccarti dalla materialità la prima cosa che una persona quando inizia a tornare c'è scritto staccati dal male e poi fai del bene non c'è scritto fai del bene no prima di tutto staccati dal male dal momento in cui ti stacchi dal male puoi iniziare a fare del bene staccati dalla materialità dopo che ti stacchi dalla materialità allora mi puoi togliere da qua poi dice fallo tutto il tempo e alla fine l'ultimo giorno devi proprio digiunare non dormire il dormire cosa vuol dire stai sveglio non essere come il dormire è come un sessantesimo della morte la morte cosa vuol dire essere lontano dalla vita essere lontano da Kadosh Baruch c'è scritto che quando arriverà il Messia diremo tutti tutto il tempo che è passato era come se stavamo dormendo quindi cosa gli dice l'ultimo giorno tutto va dietro al Khitum cosa vuol dire che tutto va dietro al timbro cosa vuol dire che l'ultimo giorno è il giorno più importante come diciamo sempre che una persona torna a Bechuvah quando è che si chiama che è tornato a Bechuvah dice ah Gagliani che bello è c'è la barba le peo sai che una volta che delinquente era ogni minuto che hai fatto Ciuvah è bellissimo però quando è che si chiama che hai fatto Ciuvah l'ultimo giorno della tua vita se arrivi al tuo funerale è così se arrivi all'ultimo giorno della vita che ancora sei Bechuvah se arrivi all'ultimo giorno della vita che hai provato ancora a mantenere quello che hai visto che è la verità quello si chiama Ciuvah allora gli dice che per un anno devi sperare di vedermi e tutto ma è l'ultimo giorno è il giorno più importante non solo devi digiunare staccarti dalla materialità ma in più devi non devi dormire cosa vuol dire devi stare attaccato vuoi far così mi puoi tirar fuori da qua il proseguimento andiamo avanti la prossima settimana quando è spero che con le storielle non vi siete addormentati perché di solito si raccontano le storie per dormire una domanda chiudo quale cosa o dimmi tu no chiudi chiudi ok viene qua non vi siete addormentati